Guido cosa hai pensato alla fine del primo quarto? Perché siamo bischi Anche lì siamo partiti una volta regalando Più che l'attacco abbiamo regalato in difesa tiri facili a Fontecchio E comunque il piano di partita sapevamo che loro andavano da Pitman E non abbiamo neanche fatto male su Pitman nel primo quarto Però ora sono stati gli altri che ci hanno fatto a canestro E niente poi si è stato di rincorso a tutta la partita Siamo stati bravi a riagguantarla subito diciamo Nel secondo quarto quindi Perché se magari finivi il secondo quarto sotto di più dei tre punti che abbiamo fatto O magari diventava più compleato A me ci sono stati bravi a tornare nel secondo quarto E poi a star lì con la testa Poi a portarla a casa Ti avete sempre creduto o c'è stato un momento? No no, quello sempre Uno ci è rete fino alla fine Ci abbiamo creduto con Sassari fino alla fine Ci abbiamo creduto con la Brindisi fino alla fine E anche le partite prima Noi si scendiamo in campo per vincere Non sempre ci siamo riusciti Adesso stiamo sistemando alcune cose Penso che i punteggi delle ultime tre partite lo dimostrino A parte l'overtime di Sassari che ancora ha 80 punti Però a Brindisi siamo andati a fare una partita sui 70 punti Oggi abbiamo fatto una partita sui 70 punti E quello deve essere il nostro obiettivo Cioè la squadra deve venire qua e segnare 70 punti Perché tanto noi sappiamo che ne possiamo segnare di più Però non come prima che magari dipendeva al 95 Fai fatica a vincere se devi fare sempre più di 90 punti Quindi noi dobbiamo stare lì e pensare alla difesa Pensare che l'attacco poi viene da sé Perché come abbiamo fatto nel terzo quarto e tutto Ma anche nel secondo quarto La rimonta e poi comunque che sia stata in partita L'abbiamo fatto partendo dalla difesa Controfiede quello che Andre mi ha dato il pallone in me Ha poi segnato Mancio e penetrazione di Jerome La difesa è fuori posizione Allora DJ ci ha rimbalzo un attacco Quindi la difesa è quella che ti dà l'energia Per poi andare in attacco e trovare la difesa avversaria sguarnita Anche la giocata decisiva se vogliamo è stata una giocata difensiva Con quella stoppata di White all'ultimo secondo Sì quella sicuramente Anche lì ancora mancava un po' di gestione nei finali Perché troppo spesso che oggi è capitato quel tiro di Ibi 99 su 100 non li sbaglia mai Ci capita anche questo Quindi lì sareste stato sul più quattro E magari la partita sarebbe stata comunque diversa Però sì, stiamo, come dice Frank Dobbiamo rimetterci in ritmo partita Perché ancora, e questo ci viene dall'allenamento Ancora camminiamo troppo e siamo un po' troppo passivi In alcuni momenti della partita Cosa ha cambiato di sostanzioso da Coach Becchi a Vitucci? Ma no, Frank ha continuato a lavorare su quello che stava facendo Luca Ha cambiato un po' l'attenzione E la vittoria più importante è questa? Se si può fare una classifica? Per adesso sicuramente perché è il primo scontro diretto che vinciamo Caserta Sì, Caserta, però è talmente lontana Non ci si ricordava più quasi Però diciamo, questa in casa Visto che hai perso con il Capo d'Orlando, con Cremona Scontri diretti e tutto Vincere con uno scontro diretto in casa È già un bel passo avanti Comunque, come dimostrano le ultime tre giornate Il fondo della classifica si è mosso e si è mosso bene Vedi Pesaro, vedi Cantuno Comunque la classifica si sta muovendo È ancora corta, non c'è da facciarci la testa Però dobbiamo cominciare Oggi fortunatamente con Casse pure A vincere delle partite a muovere la classifica Sei pronto per dare il? Eh sì Ora faccio il terzino Scusa? Ormai faccio il terzino Scusa? Scusa Io e Jack ormai dobbiamo terzino Jack e Jack hanno fatto il lavoro Cavoloso su Geddy Escludendolo Infatti l'ultimo quarto si è visto E loro giocavano un po' peggio Ma proprio perché Jack escludeva i primekere E non riuscivano ad entrare negli segni Con la fluidità dei primi dei quarti Tu hai anche giocato tanti minuti in difesa su Fels Sì, oggi abbiamo fatto 3 su 15 Quindi comunque prima Come a Brindisi ero su Banks Nel senso Ma l'ho sempre Sempre fatto Fin dai tempi di Rieti E così Tanto la mia filosofia è quella Visto che comunque in attacco Mi reputano tutti più scemo di quello che è serio Una battuta È vero che fai il terzino E a volte fai anche il gran centravanti Che parti da porta a porta E poi a fare cose L'abbiamo visto tante volte Se c'è la possibilità Se c'è la possibilità E vedeva l'occasione E riusciamo a sfruttare Ma come Jack nei primi due quarti Che ha avuto quei due azioni Ha fatto due tiri liberi E un altro Penetrazione per toccare Siamo giocatori esperti Quindi sappiamo quando C'è la possibilità di andare Oppure no E comunque Diciamo siamo ancora della vecchia scuola Che quando eravamo giovani Si difendeva Ma ti piace questo ruolo da specialista Tra virgolette Ma si come sempre Ma anche l'anno scorso C'è All'anno scorso Uguale Comunque Quest'anno Ovviamente Si ma il livello è lo stesso Scambia Solo che sono più stranieri Che italiani Non so gli stranieri più forti degli italiani Della 2 Resta ancora Il tema Rimbalzi Che Ma si anche oggi C'erano Abbiamo processi un po' di troppi Però anche A parte un paio proprio In cui ci si è scordati L'uomo E quindi ci sono andati a prendere Almeno 3 o 4 circostanze Sono stati rimbalzi lunghi In cui E' vero Si è stati presi in controtempo Però istintivamente A rimbalzo ci eravamo andati Quindi Non mi sento di dire Però Si 2 3 Forse anche 4 azioni Ci siamo scordati L'uomo Mi ricordo un paio con Ian Che uno l'ha preso Vitali Uno l'ha preso Odon Che però E' lì E' un cambio E quindi Sfavorevole Possiamo concedere Nel senso Ian che comunque Contro un lungo Gli può Prendere il rimbalzo Però sono stati tutti Gli altri Sono stati rimbalzi lunghi In cui dobbiamo essere Forse un po' più attenti Però a volte Cioè Proprio perché Le abbiamo concessi Due o tre Ti viene di più Di andare verso il ferro E poi quando il pallone Ti scava Ti scava E ti prende in controtempo Non è sempre facile Leggere subito Comunque Prenderla Ok Libererai Guido Grazie Grazie a voi Auguri Buon anno Buon anno Buon anno Buon anno